buongiorno ragazzi oggi ci troviamo sul lago di garda esattamente al limone sul garda lo faremo vedere noi la prima volta che andiamo a visitarlo saremo passati migliaia migliaia di volte non siamo mai fermati oggi abbiamo deciso di venire a limone visitarlo quindi lo visiteremo insieme a voi ci faremo un 360 l'istancio è già troppo bello però dobbiamo visitarlo all'interno per ribaltare ma Grazie per la visione 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 continuiamo con la nostra avventura che bello si è nido non guarda ci mangiare è bello è bello è bello è bello sono arrivati abbiamo trovato la luce di fiume eh ragazzi un giro qui il limone l'abbiamo fatto ora prendiamo il nostro mezzo e rientriamo verso Verona avremo un'oretta e mezzo di strada da fare allora dai più o meno per le 6 dovremmo essere già Verona bene ragazzi da limone sul garda è tutto mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale lasciate un like e un commento e niente un saluto da Anto e Meli e Bandulleri ciao ragazzi un saluto a tutti 3 novembre 2024 limone sul garda ciao ragazzi ciao 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 ciao